Buongiorno a tutte e a tutti. La poesia che leggeremo insieme, analizzeremo e commenteremo oggi è Novembre, di Giovanni Pascoli, tratta dalla raccolta Mirice. Si tratta di una delle liriche più emblematiche della poetica di Pascoli. In questa lirica, infatti, come vedremo, noi passiamo nel corso della lettura da un'immagine impressionista e positiva della natura ad un'immagine della medesima natura negativa e funebre. A questo proposito, prima di iniziare a leggere e considerare la lirica, vorrei fare una premessa. Ora, scusate se questa premessa vi può apparire noiosa, e considero la prefazione che Giovanni Pascoli scrive alla terza edizione di Mirice e che trovate sullo schermo di fronte a voi. Vedete? Qua abbiamo il sottotitolo di Mirice Arbusta Juvantum Ilesque Mirice, cioè il passo virgiliano da cui è tratto il titolo stesso dell'opera la dedica a Ruggero Pascoli, che è il padre di Giovanni parte la prefazione e in questa prefazione Giovanni Pascoli scrive che cos'è la natura per lui prima parla della morte del padre e poi parla della funzione consolatoria della natura e dice, leggete di fronte a voi ma l'uomo che da quel nero ha oscurato la vita ti chiama a benedire la vita che è bella cioè sarebbe se noi non la guastassimo a noi e agli altri bella sarebbe anche nel pianto che fosse però rugiada di sereno, uno scroscio di tempesta anche nel momento ultimo quando gli occhi stanchi di contemplare si chiudono come a raccogliere e riporre nell'anima la visione per sempre ma gli uomini amarono più le tenebre che la luce e più il male altrui che il proprio bene ed è il male volontario danno a torto piasimo alla natura madre dolcissima che anche nello spengerci sembraci culli e ci addormenti oh, lasciamo fare a lei la natura che sa quello che fa e ci vuol bene ecco quindi un'immagine della natura come madre dolcissima diametralmente opposta alla natura matrigna di Leopardi il male del mondo non viene dalla natura ma dagli uomini gli uomini amarono più le tenebre che la luce citazione evangelica e più il male altrui che il proprio bene cioè sono gli uomini che si fanno violenza a vicenda sono gli uomini che si uccidono a vicenda così come fu ucciso il padre di Giovanni Pascoli e poi danno biasimo alla natura cioè accusano la natura a torto perché la natura è una madre dolcissima che anche quando ci spegne in modo non violento sembra che ci culli e ci addormenti quindi Giovanni Pascoli presenta un'immagine positiva e consolatoria della natura nella sua stessa prefazione alla raccolta mirice secondo il critico romano Luperini tuttavia Pascoli non ci dice proprio tutto forse inconsciamente la poetica stessa di Giovanni nasconde un secondo aspetto perché è vero che in mirice al centro della scena c'è sempre la natura ma l'altro grande protagonista dell'opera è la morte tutte le volte che Pascoli guarda la natura inizia guardando la natura e traendone consolazione e luminosità e finisce per cogliere invece nella natura un senso di morte la natura ci rasserena come lui stesso dice nella sua prefazione ma al tempo stesso è attraversata da un continuo senso di mistero da una continua venatura funebre la natura di mirice dice romano Luperini è attraversata da un incubo mortuario vie come un'ossessione funebre che non può fare a meno di scommettere sul negativo naturale la situazione tipica pascoliana dice sempre Luperini presenta infatti una serie equilibrata di eventi naturali in parte solare positiva vitale in parte notturna negativa mortuaria cioè c'è un'ambiguità la natura da una parte è positiva luminosa vitale consolatrice dall'altra parte è notturna negativa mortuaria e da questa ambivalenza deriva una sospensione provvisore del senso che deve decidersi per una strada o per l'altra cioè in mirice il lettore deve decidersi se considerare la natura nel suo aspetto consolatorio o nel suo aspetto mortuario e quasi inevitabilmente finisce Luperini si opta per la strada dell'inquietudine cioè per il significato lottuoso anche quando la sospensione non venga risolta il sentimento di mistero si connota in modo minaccioso e negativo cioè la natura di mirice apparentemente positiva nasconde sempre questo senso funebre questa venatura mortuaria e si connota costantemente di un sentimento di mistero cioè c'è sempre qualcosa di misterioso nella natura pascoliana questa lunga introduzione per affrontare appunto la poesia novembre perché questa poesia è emblematica della poetica di pascoli in quanto si nota molto chiaramente nella lirica il passaggio da un'immagine positiva della natura all'aspetto che la positività della natura nasconde cioè la morte ascoltiamo quindi la lettura di novembre fatta da un professionista e poi la commentiamo in modo più puntuale giovanni pascoli novembre gemma l'aria il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore ed il prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore ma secco è il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno e vuoto il cielo e cavo al pie sonante sembra il terreno silenzio intorno solo alle ventate o di lontano da giardini ed orti di poglie un cadere fragile nell'estate fredda dei morti bene torniamo alla nostra lirica incominciamo a considerarla dal punto di vista della sua storia siamo appunto della raccolta mirice abbiamo visto che la raccolta mirice è stata pubblicata in diverse edizioni mano mano ampliate cioè mano mano che vengono pubblicate le edizioni successive in esse sono contenute sempre più numerose liriche questa però appare fin dalla prima edizione ed è anzi precedente perché è stata pubblicata per la prima volta in una rivista fiorentina che si chiamava vita nuova nel febbraio del 1891 dal punto di vista metrico è molto interessante perché qua Pascoli si mostra uno sperimentatore non è la solita metrica tradizionale italiana il metro con cui è scritta questa lirica è la cosiddetta strofe saffica che prende che prende il nome dalla poetessa greca saffo la poetessa greca saffo eccola qua è una delle grandi poetesse una dei grandi lirici dell'antica grecia nota per il suo amore non corrisposto per una sua allieva un'allieva del suo tiaso cioè del collegio che lei gestiva questo tipo di metro la strofe saffica prende il nome da questa poetessa ed è stato poi utilizzato anche nel mondo latino ad esempio da Catullo Pasquale intende utilizzare il metro classico trasponendolo nella lingua italiana quindi il metro sì è classico quindi antico e tradizionale ma l'aspetto di sperimentalismo è la trasposizione di una metrica che sarebbe tradizionale greca e latina nella lingua italiana voi sapete che la metrica classica greca e latina è una metrica quantitativa cioè si basa sulle quantità delle vocali e quindi delle sillabe e non sull'accento delle sillabe mentre la metrica italiana è una metrica accentuativa cioè si basa sugli accenti c'era già stato un poeta che aveva tentato poco prima di pascoli questo esperimento cioè la trasposizione della metrica classica nella poesia italiana ed era stato Giosuè Carducci che in una sua raccolta di Barbare aveva appunto proposto quella che lui chiamava una metrica Barbara la chiamava Barbara perché così i latini avrebbero considerato una persona che leggesse in modo accentuativo la poesia latina la quale era quantitativa cioè se noi se un latino ci avesse sentito leggere la poesia antica in modo accentuativo ci avrebbe considerati barbari ok volevo farvi un esempio che forse potete capire da questo punto di vista non avevo pensato di farlo ma mi accorgo che il discorso potrebbe essere troppo astratto ma è importante per capire anche lo sperimentalismo prima di Carducci e poi di Pascoli guardate questa poesia di Giosuè Carducci che si intitola Nevicata e che è scritta con una metrica barbara questa poesia vorrebbe riprodurre la nostra lettura dell'esametro so se avete presente l'esametro latino no? l'inizio della quarta regola di Virgilio e l'esametro latino titire patulere recubanzo termine fagi lenta fiocca la neve pel cielo cinerio gridi capite? capite? l'accentuazione della del verso Carducciano è la medesima accentuazione dell'esametro latino nella sua lettura accentata quindi nella sua lettura barbara Carducci lo fa con l'esametro Pascoli lo fa con un tipo di strofa ancora più difficile la strofe saffica aggiungendo un altro aspetto che nella metrica barbara di Carducci era assente cioè la rima ecco quindi la particolarità metrica di questa poesia che è composta da come vedete tre endecassillabi ciascuna strofa e un verso quinario ok? senti nel quo re sembri il terreno cioè cos'è il verso quinario è un verso che ha l'accentro metrico sulla quarta sillaba questo verso quinario che si trova dopo i tre in decassillabi è chiamato un verso adonio dal nome di adone l'amante di venere oltre a ciò Carducci e scusatemi pascoli inserisce al termine delle dei versi delle rime le rime a b a b c d c d e f e f quindi si tratta di rime alternate ok? attenzione che le rime c e d sono anche fortemente assonanzate tra loro quindi piante sonante ma anche ventate estate è un'assonanza perché dopo l'accento metrico si mantengono le medesime vocali anche se cambiano le consonanti ma in realtà cambiano solamente per l'assenza del suono n mentre la t rimane vediamo ora il contenuto di questa poesia e cominciamo dalla prima strofa gemmea l'aria l'aria è come una gemma mi raccomando la lettura gemmea perché nei commenti che si trovano su internet a questa poesia ho trovato anche chi pronuncia gemmea e anche chi dice che questo è un verbo ma si tratta di errori absit ignuria verbis tutti facciamo errori quindi non sto criticando nessuno però ad onore del vero bisogna dire che l'aggettivo gemmea ha l'accento sulla prima e perché è costruito sulla falsa riga di aureo cioè come loro gemmeo vuol dire come una gemma è un aggettivo molto ricercato anche questo aspetto è interessante Pasquali mescola nella propria poesia termini elevati come gemmeo termini botanici come prunalbo ma anche termini molto bassi come stecchite anche questo è un aspetto dello sperimentalismo linguistico del poeta uno sperimentalismo linguistico che poi altri riprenderanno tra cui montale gemmea l'aria cioè l'aria è limpida è cristallina è pura come una gemma il sole così chiaro che tu e questo tu è impersonale cioè è un tu nel senso di chiunque che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e senti nel cuore l'odorino amarognolo del bianco spino attenzione anzitutto cosa notiamo? notiamo che già nel primo verso manca il verbo della principale non c'è il verbo essere dovrebbe esserci l'aria era come una gemma il sole era così chiaro ok? invece non c'è né il verbo essere quindi si tratta di una frase nominale cioè priva del verbo ma non c'è nemmeno la congiunzione cioè non c'è la congiunzione e quindi si tratta di un verso costruito per assindeto cioè in cui le congiunzioni risultano assenti vedete le virgole no? l'aria era come una gemma il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore quindi una sensazione direi impressionista come al solito abbiamo la sensazione tattile dell'aria limpida come è pura una gemma abbiamo la sensazione visiva di un sole chiaro immaginatevi una giornata appunto con l'aria pura e il sole chiaro cosa ci viene in mente di fare? ci viene in mente di cercare i fiori della primavera ci si aspetta di essere in primavera infatti la conseguenza è che il lettore la persona cosa fa? ricerca i fiori degli albicocchi cioè va alla ricerca con la vista dei fiori degli albicocchi e poi sente nel cuore cioè si immagina di sentire l'odore amarognolo del biancospino attenzione quindi abbiamo un'immagine impressionista nel primo verso che subito dal secondo verso si trasforma in un'immagine mentale cioè non ci sono gli albicocchi in fiore e non si sente fisicamente l'odore del biancospino gli albicocchi in fiore sono immaginati e l'odore del biancospino dove lo si sente nel cuore quindi si tratta di un sentimento non di una realtà fisica all'interno della prima strofa già siamo passati da un impressionismo tattile visivo alla sua estensione nell'anima cioè la percezione dei fiori di albicocco e dell'odore del biancospino avviene attraverso il ricordo e la nostalgia vorrei farvi notare diversi aspetti di questa prima strofa abbiamo detto anzitutto nel primo verso quest'immagine di icastiche tra loro contrapposte e molto forti l'aria come una gemma e il sole chiaro notiamo anche la costruzione di questo verso gemmea l'aria il sole chiaro cosa notiamo qua notiamo una costruzione a data dall'aggettivo e b il sostantivo a b b a gemmea aria sole chiaro aggettivo sostantivo sostantivo aggettivo ok si tratta perciò di un chiasmo cioè di un elemento con struttura ax con struttura a b a nel secondo verso ricerchi gli albicocchi possiamo notare l'allitterazione ricerchi gli albicocchi gli albicocchi in fiore penso che voi li abbiate presenti contraddistinguono questa nostra primavera che in questi giorni stiamo vivendo si presentano così e poco più avanti si parla del del biancospino che pascoli definisce prunalbo utilizzando un termine tecnico sapete che pascoli utilizza termini botanici ama molto non definire le piante in modo generico ma definirle in modo preciso ha una precisione diciamo così scientifica e naturalistica che è molto importante per lui nel fanciullino il suo trattato di poetica pascoli dice che il poeta è l'adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente quindi la precisione terminologica naturalistica direi quasi positivista è al servizio di di una poesia come illuminazione diciamo così ecco perché pascoli come abbiamo visto nella poesia romagna quando commentavamo la poesia romagna avevamo detto che rifiuta il mazzolin di rose e viole del sabato del villaggio leopardiano nel saggio il sabato pascoli critica questa immagine di leopardi del mazzolin di rose e viole perché le rose e le viole non crescono assieme pascoli è molto preciso da questo punto di vista ecco perché non dice gli alberi in fiore la tradizione italiana avrebbe detto alberi in fiore e poi avrebbe detto l'odore delle piante no lui precisa che gli alberi in fiore sono albicocchi e che l'odorino amaro è quello del biancospino che io vi avevo trovato ma che non si vede più vediamo se lo ritroviamo eccolo qua il biancospino un'immagine ecco è questo è questo qua si chiama anche pruno ed è caratterizzato da questi fiori bianchi e soprattutto da un odore un po' acre buono ma anche amarognolo ma attenzione l'aggettivo amarognolo riferito all'odore costituisce una sinestesia perché perché l'aggettivo amaro si riferisce al gusto e l'odore evidentemente all'olfatto ma anche l'unità di vista tu ricerchi gli albicocchi in fiore e di olfatto del prunalbolo d'orino amaro e in realtà né la visione né il profumo esistono veramente ma si sentono nel cuore e beh questo costituisce una forma forte di sinestesia e vi ricordate chi utilizza molto la sinestesia i poeti simbolisti vi ricordate Baudelaire vi ricordate Rimbaud ecco Pascoli qua acquisisce la lezione dei simbolisti perché profumi colori e suoni si rispondono come direbbe Baudelaire nel cuore della persona i colori i profumi i suoni dice Baudelaire si rispondono e qua i colori i profumi gli albicocchi in fiore l'odorino amaro si sentono nel cuore ultimo aspetto che volevo farvi notare è anche la complessità della struttura sintattica ad esempio guardate qua l'anastrofe del prunalbo l'odorino amaro non l'odorino amaro del prunalbo quindi ricordiamoci anche l'anastrofe cioè l'inversione delle del normale ordine sintattico e poi nella seconda strofa questo ma questo ma che contraddistingue in modo molto chiaro i due momenti il momento in cui la memoria o la sensazione fa pensare la primavera e poi la realtà quindi questo ma posto ad inizio strofa che abbiamo già visto anche in Romagna ad esempio e che vedremo poi molte altre liriche dopo Pascoli segna un deciso cambio di passo anche a livello semantico cioè anche a livello di significato delle parole guardate le parole della prima strofa tutte positive gemmea chiaro fiore e qua nella seconda strofa secco stecchite nere vuoto cavo ma secco è il biancospino e le stecchite piante segnano il sereno cioè il cielo di un nero intreccio il cielo è vuoto e il terreno sembra vuoto al piede che lo calpesta subito subito l'antitesi rispetto alla strofa precedente guardate qua il prunalbo è ripreso dal pruno lo vedete prunalbo eccolo qui e pruno sono la stessa pianta poi prima aveva parlato di albicocchi e qua parla di piante di nuovo parla della stessa cosa ma gli albicocchi prima erano in fiore e adesso sono stecchiti il prunalbo era fiorito infatti si sentiva l'odore dei fiori adesso è secco cioè la prima strofa aveva parlato di una sensazione l'aria è pura il sole è chiaro quindi si pensa di essere in primavera ma in realtà non siamo in primavera ce lo anticipa già il titolo siamo a novembre quindi quella di essere in primavera è soltanto un'impressione la realtà è che la natura è morta il biancospino è secco e le piante sono stecchite termine molto forte per dire morte e ridotti a stecche segnano il sereno di nere trame cioè segnano il cielo azzurro che sta come sfondo di un intreccio nero mi viene in mente ad esempio questa immagine di telema con questo quest'opera di telema con signorini un autore facente parte della corrente dei macchiaioli che si titola impressioni di campagna eccola qua l'immagine è quella delle piante stecchite che formano un intreccio con i loro rami neri in contrapposizione cromatica con il cielo sereno e azzurro ok ho fotografato anche proprio il biancospino questa foto è stata scattata qualche settimana fa in quel di Castelvetro e questo è un biancospino qua non vedete ovviamente i fiori vedete i frutti con le piante con i rami secchi sullo sfondo di un cielo quasi azzurro ecco Pascoli aveva in mente un'immagine del genere scusate riprendiamo la poesia ma secco è il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno notiamo anche la litterazione della S secco è il pruno e le stecchite piante segnano il sereno una allitterazione che sottolinea una sensazione direi di freddo e e di squallore che continua poi anche nel nei versi successivi cavo al piessonante sembra al terreno silenzio intorno solo questa allitterazione della S e guardate anche che l'accumulo di queste connotazioni negative è evidenziato da altri elementi in questo caso ad esempio l'assindeto della prima strofa cioè l'assenza di congiunzioni è sostituita dal polisindeto cioè dal numero elevato di congiunzioni e le stecchite piante e cavo al piessonante quindi all'assindeto si sostituisce nella seconda strofa il polisindeto e poi notiamo anche come la parola nere in questo secondo verso della seconda strofa sia interamente contenuta nella parola sereno e come se l'apparenza della serenità del cielo nasconda il nero e qua già voi capite dove vogliamo andare a parare stiamo dicendo che all'apparenza della luminosità della vita dietro all'apparenza della luminosità della vita si nasconde la realtà della morte cioè stiamo passando e sarà evidente nella strofa successiva dall'impressionismo al simbolismo a noi tutti pare che la vita sia luminosa e positiva ma dietro ad essa immancabilmente c'è la morte la morte è la compagna che non ci abbandonerà mai e che sta dietro ogni manifestazione della vita molto evidente il riferimento alla morte già da questo verso il cielo è vuoto è vuoto perché non ci sono gli uccelli e voi sapete l'importanza degli uccelli in pascoli che appaiono quasi in tutte le sue poesie per dire la vita e per dire il nido per dire le proprie radici il cielo è privo di uccelli sono tutti migrati vi ricordate anche l'importanza della migrazione in pascoli questa tematica gli uccelli sono tutti andati via oppure sono morti in ogni modo non ci sono l'immagine di vita tipicamente pascoliana quella dell'uccello è eliminata il cielo è vuoto e ancora di più al piede che rimbomba il terreno sembra cavo cioè quando tu cammini sul suolo il terreno sembra sembra vuoto perché? perché probabilmente è gelato e quindi quando tu lo calpesti fa un rumore fa un rumore come se esso fosse cavo ma attenzione l'immagine del terreno cavo cioè il terreno vuoto è un'immagine di morte perché che cosa c'è sotto il terreno? che cosa c'è in queste cavità sotterranee? beh ci sono i morti passiamo quindi all'ultima strofa in cui di nuovo noi vediamo prevalere la l'assindeto ok? e di nuovo vediamo versi nominali cioè privi di verbo e notiamo anche qualche cosa di nuovo dal punto di vista della struttura e del ritmo guardiamo silenzio intorno solo alle ventate odi lontano da giardini e orti di foglie un cadere fragile è l'estate fredda dei morti guardate quanta punteggiatura quindi non ci sono congiunzioni asindeto ci sono invece tanti stacchi li vedete tutti silenzio intorno solo alle ventate è l'estate fredda dei morti soprattutto all'inizio alla fine della strofa noi notiamo questi stacchi si è parlato a tal proposito di verso franto cioè di verso spezzato di verso spezzato è come se il poeta con questa frantumazione del ritmo voglia far percepire al lettore il disagio il caos di una vita frantumata in cui le illusioni che ancora c'erano nella prima strofa sono state eliminate e adesso rimane solamente il caos rimane una vita spezzata silenzio intorno non ci sono uccelli e quindi c'è il silenzio vedete ricordate che in romagna gli aspetti positivi dell'infanzia di pascoli erano il suono delle campane il ridere dei bambini il cinguettio degli uccelli qua no c'è il silenzio un'immagine spettrale il silenzio è tipico della morte è tipico dei cimiteri è tipico dell'inverno silenzio intorno anche qua frase nominale senza verbo solo solitudine il tu impersonale si trova solo quando soffia il vento odi una sensazione uditiva lontano da giardini e orti la caduta delle foglie fragili cosa c'è qua? beh anzitutto c'è questa ascendenza leopardiana giardini e orti ma soprattutto abbiamo l'immagine di una persona che sente il cadere delle foglie da lontano allora voi capite che noi non possiamo fisicamente da lontano sentire le foglie che cadono quindi ancora una volta noi abbiamo una sensazione interiore prima avevamo senti nel cuore adesso invece tu dice semplicemente odi ma specificando odi lontano si capisce che questo sentire non è un sentire fisico e uditivo è un sentire interiore cioè la persona sente dentro di sé il cadere delle foglie perché non è possibile sentire delle foglie che cadono lontano è come se questa caduta delle foglie che rappresenta l'autunno quindi rappresenta la morte delle cose diventi diventasse universale non è una semplice caduta delle foglie che avviene da qualche parte ma è una caduta delle foglie che si estende per tutto il mondo tanto che tu puoi sentirla da lontano è una sensazione interiore ed estesa per tutto l'universo non solo nel punto in cui effettivamente le foglie cadono o di lontano di foglie un cadere fragile notiamo ancora l'anastrofe ok un cadere di foglie vediamo l'anastrofe l'abbiamo già fatta vedere prima eccola qua un cadere fragile di foglie di foglie un cadere fragile e notiamo anche quest'altro aspetto un cadere fragile di foglie ma è il cadere che è fragile o sono le foglie sono le foglie che sono fragili non certo il cadere si tratta perciò di una ipallage vi ricordate che cos'è l'ipallage l'abbiamo già trovata in leopardi l'ipallage consiste nell'associare un aggettivo ad un termine contiguo a quello a cui l'aggettivo andrebbe sintatticamente riferito ok cioè foglia fragile diventa cadere fragile delle foglie evidentemente ok cioè l'aggettivo fragile dovrebbe essere riferito a foglie invece riferito al cadere tra l'altro noi possiamo sentire il cadere delle foglie no noi possiamo vederlo il cadere delle foglie e tra l'altro anche lo stesso aggettivo fragile è un aggettivo particolare perché dà al lettore una sensazione tattile e allora qua siamo ancora di fronte a una sinestesia odi sensazione uditiva cadere sensazione visiva fragile sensazione tattile e quindi ancora una volta la sinestesia tipica del simbolismo e infine la la frase che ci svela che cosa è accaduto in questa lirica è l'estate fredda dei morti e guardiamo la costruzione del verso è l'estate e quindi ancora una volta c'è l'immagine dell'estate e poi subito la sua negazione è l'estate fredda dei morti è l'enjamberment che crea questo effetto ti aspetti è l'estate no è freddo e c'è la morte è come se in queste ultime parole si riassuma tutta la lirica prima l'impressione e poi la delusione prima la natura consolatoria e poi la natura vera è l'estate puntini puntini e l'enjamberment fredda ok quindi notiamo l'enjamberment ok ma l'estate fredda è anche una contraddizione in termini l'estate non può essere fredda si tratta perciò di un ossimoro ok è l'estate fredda dei morti a cosa fa riferimento qua Pascoli fa riferimento appunto al mese di novembre già ce lo aspettavamo del titolo della poesia perché perché cosa succede a novembre a novembre c'è la cosiddetta estate di San Martino l'11 novembre per la precisione nei giorni successivi all'11 novembre secondo le leggende popolari molto care a Giovanni Pascoli si dice che il clima sia particolarmente sorridente ok la leggenda dice che San Martino anticamente il vescovo di Tur in quei giorni abbia incontrato un povero e abbia lasciato il suo mantello al povero che moriva di freddo vedete in questa immagine che trovate di fronte a voi molto tipica trovate San Martino che sta tagliando il proprio mantello per darlo al povero per in cambio di questo gesto così caritatevole Dio ha concesso al mondo quell'anno per tutti gli anni successivi nei giorni a partire dall'11 novembre per i giorni successivi un breve periodo in cui il rigore dell'autunno è sostituito da un tempo sereno questo periodo è la cosiddetta estate di San Martino non so se ne avete mai sentito parlare ma popolarmente si dice appunto che i giorni dopo l'11 novembre sono l'estate di San Martino Pascoli ama queste storie di leggende contadine che oggi forse si sono un po' perse vi ricordate anche in 10 agosto fa riferimento al cadere delle stelle come se fossero che sappiamo rappresentare i lapilli con cui fu arso che uscivano dal robo di San Lorenzo qua invece non c'è San Lorenzo cioè se San Martino ma Pascoli dicevo unisce in qualche modo l'estate di San Martino che è l'11 novembre con un altro avvenimento che capita a novembre che è il giorno dei morti che è pochi giorni prima cioè il 2 novembre ecco perché dice è l'estate fredda dei morti ok ecco credo di aver detto tutto so che la poesia può avervi un po' annoiato però vorrei farvi notare come una poesia apparentemente così semplice nasconda delle particolarità metriche sintattiche retoriche e contenutistiche notevoli ok io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento grazie di tutto grazie a tutti